Allora, qui vicino a me vedete che io ho un ospite nostro, un fuori programma simpatico. Oggi, visto che c'è questa attenzione delle finali, non abbiamo l'angolino del computer, però ci è venuto a trovare Magic Studio Filiberto Muzziani, mago e animatore internazionale. Benvenuta alla trasmissione e noi le facciamo subito un bel applauso, intanto grazie per essere venuto. Che cosa si presenterà? Due giochi di magia. Due giochi di magia. Vediamo un po' che cosa ci riserva questo nostro ospite. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.